Un nuovo pronunciamento del Tribunale Civile dell'Aquila sui risarcimenti in favore delle vittime del terremoto del 2009 sconfessa la sentenza shock con la quale il giudice Monica Croci, un paio di mesi addietro, aveva introdotto il principio di corresponsabilità delle vittime. Una sentenza che aveva provocato critiche accesissime e che aveva ridotto del 30% l'importo dei risarcimenti in favore dei familiari delle persone decedute, stabilendo che le vittime dei crogli avvenuti in via Campo di Fossa furono imprudenti nel non abbandonare le proprie case dopo la seconda scossa. Una valutazione è apparsa quanto mai azzardata, soprattutto alla luce delle ampie rassicurazioni fornite dalle autorità competenti in merito alla portata dello sciame sismico che precedette di alcuni giorni il devastante terremoto del 6 aprile 2009. La nuova sentenza riguarda la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di Luciana Pia Capuano, 21enne di San Giovanni Rotondo che perse la vita nel crollo della casa dello studente di via 20 settembre. Il giudice Baldovino De Senzi, recentemente chiamato a sostituire proprio la collega Croci, ha condannato a pagare il risarcimento la regione Abruzzo, proprietaria dello stabile, l'azienda per il diritto agli studi universitari che gestiva la casa dello studente, i tecnici e gli ingegneri che a vario titolo ebbero un ruolo nei lavori di ristrutturazione dell'edificio. Il giudice De Senzi, che nella sua decisione non ha fatto alcun cenno ad una ipotetica corresponsabilità delle vittime, ha evidenziato che deve escludersi ogni profilo di eccezionalità del sisma del 2009, sottolineando peraltro che il crollo non fu dovuto soltanto alla violenza del terremoto, ma soprattutto ad una serie di vizi riguardante la progettazione e manutenzione dell'edificio. La sentenza, che rappresenta il primo pronunciamento dopo la decisione shock del giudice Croci, potrà ora contribuire a restituire un minimo di serenità ai familiari delle vittime e probabilmente anche a ristabilire il pieno rispetto della verità in merito alle responsabilità dei crolli.